Parliamo con il bomber, il super bomber del Pergo, la risolta anche oggi, quattro gol quest'anno, due oggi, una sesta vittoria, una stagione iniziata in modo super per te. Sì, sono molto contento di come è iniziata questa stagione, il gol potevano essere anche di più di quattro se le occasioni che avevo le buttavo dentro tutte, però per adesso va bene così, siamo lì in testa, cerchiamo di rimanerci il più possibile, vedremo adesso con le partite quelle che contano di che pasta siamo fatti. Tornando alla gara di oggi, un nuovo modulo, un pochino diverso dal solito, è arrivata comunque la vittoria, ma come vi siete trovati? Primo tempo, devo dire che secondo me abbiamo fatto una buona gara, secondo tempo invece siamo andati un po' più in difficoltà, nel primo abbiamo avuto delle occasioni per raddoppiare, che dovevamo sfruttare meglio, però secondo tempo secondo me non abbiamo fatto benissimo, continuavamo a lanciare la palla, abbiamo giocato poco, bisogna migliorare e partire dal primo tempo. Però insomma l'unica squadra in tutti i nove giri ogni serie di aver fatto tutte le vittorie, vorrà dire qualcosa? Sì, siamo un grande gruppo, sia dentro che fuori dal campo, andiamo in campo sempre per vincere ovviamente, siamo molto contenti.